Ciao ragazzi, ben ritrovati per un altro appuntamento qui sul salotto di Gazze. Oggi vi propongo le pagelle di Juventus-Torino, match che ho commentato sabato ore 18. Passiamo subito ai voti delle due squadre. Partiamo dalla Juventus. Scesni, 6 e mezzo. È stato poco impegnato durante tutta la partita, incolpevole sul primo gol, poi però è stato provvidenziale perché dopo pochi minuti il Torino poteva raddoppiare con Zalza, ma lui si è fatto trovare pronto. Quadrado, voto 7, a parer mio, il migliore in campo per distacco perché comunque gli è stato anche annullato un gol nel secondo tempo, giustamente per fuorigioco di Bonucci e poi ha regalato due assist, quindi il risultato decisivo per la rimonta dei bianconeri. Delict, voto 6, calma olimpica come sempre per il giovane olandese, ha dovuto più che altro pensare a fare sportellate con Belotti e Zazza, così poi come ha dovuto fare anche Bonucci, a cui ho dato un 6 e mezzo perché comunque è risultato decisivo. Il capitano Avero ha segnato all'ottantanovesimo minuto, completando la rimonta. Danilo per me invece è 5 e mezzo perché può essere più preciso, forse della difesa è quello che ha lasciato meno il segno. Chi ha lasciato poco il segno è Kulusevski. Non so dove sia finito lo svedese della Juventus che sta tradendo un po' le attese, era partito molto bene, invece adesso si sta un po' perdendo, forse è fuori condizione, impalpabile per tutta la durata della partita. Bentancur invece ha giocato bene, voto 6 perché ha toccato tantissimi palloni, li ha gestiti sempre bene, non ha fatto robe calamorose ma il regista come ruolo l'ha gestito molto bene. Rabiot invece è un voto 5 perché la Juve ha cominciato a spingere quando lui è uscito e questo è tutto dire. Anche lui ha iniziato bene la stagione, adesso forse il sabato è stata la sua peggiore prestazione dall'inizio del campionato. Chiesa invece è 6 e mezzo perché a parer mio di quelli in avanti della Juve è stato il migliore per distacco perché tecnicamente si è fatto valere e poi corre come un forsennato, lo trovi ovunque, è sempre presente. Quindi Federico Chiesa ottima la sua partita, ampiamente sufficiente. Invece hanno tradito completamente le attese Di Bala e Ronaldo, peggiori in campo per entrambe le squadre perché da loro ci si aspetta tanto, quindi il 4 e mezzo è meritato perché non hanno lasciato assolutamente il segno mai. Poi sono subentrati Alexandro nel secondo tempo, voto 6, gestione tranquilla dei palloni, anche tecnicamente lui è un ottimo giocatore e si è fatto trovare pronto. Meno Ramsey, per me il gallese può incidere di più, sì ha giocato pochi minuti però ha fatto qualche errore di troppo sempre dal punto di vista tecnico, cosa che invece non ha fatto McKennie che lui è entrato alla panchina e ha spaccato la partita. Ottimo l'inserimento per il gol del pareggio e quando è entrato lui ha messo molto dinamismo al centrocampo della Juve che è cambiata da così a così. Bravo Pirlo a pescarlo alla panchina, ha guantato la sufficienza proprio grazie a Weston McKennie, voto 6 per il maestro. La Juventus per adesso non è ancora bella, non si è ancora vista, solo che sono già passati tanti mesi, quindi devono darsi sicuramente un giro se vogliono ambire agli obiettivi che probabilmente sono stati prefissati. Ora passiamo ai Granata che hanno giocato un'ottima partita. Parto da Salvatore Sirigu, voto 6, anche se ho fatto un po' fatica a non dargli 5 e mezzo. L'ho voluto premiare per la parata su Chiesa e per qualche uscita comunque sicura. Forse sui gol ha qualche responsabilità perché in area piccola il portiere deve dominare. Lianco, voto 6 perché la media perfetta tra 7, il voto che si sarebbe meritato se non ci fossero stati gli ultimi 13 minuti da 5. Ha fatto una partita clamorosa dal punto di vista difensivo e poi si è perso due volte la marcatura. C'è un concorso di colpe quindi non l'ho voluto disintegrare con insufficienza, però si è sicuramente abbassato il voto. Invece Inculu 6 e mezzo, qualcosina in più sia per i gol sia perché lui è sempre stato molto preciso, ha qualche colpa in meno rispetto a Lianco sui gol della Juventus. Rodriguez 5 e mezzo, si è visto poco o nulla, non ha sbagliato cose clamorose, però col mancino può fare di più. Singo, voto 7, per me è un giocatore clamoroso, sinceramente non l'avevo ancora mai visto giocare. Ha fatto una partita veramente pazzesca, ha disinnescato un certo Cristiano Ronaldo, tecnicamente ha fatto vedere delle cose veramente da stropicciarsi gli occhi e ha fatto un sacco di diagonali difensive veramente precise e attente. Tanta tanta roba, un classe 2000, attenzione. Meite voto 6, ha fatto una bella partita, poi anche lui ha qualche concorso di colpa nei gol della Juventus, quindi si è abbassata la sua valutazione. Il general Rincon, voto 6 e mezzo, sufficienza piena, lui ha ringhiato sulle caviglie dei giocatori della Juventus, lì in mezzo ha fatto tanta diga, quindi bellissima prestazione. Linetti 5 e mezzo perché ha fatto degli interessanti inserimenti, soprattutto durante il primo tempo, però poi non li ha capitalizzati al meglio e quindi secondo me la sufficienza purtroppo per lui non se la merita. Ansaldi voto 6, una partita onesta, si è trovato di fronte a fronteggiare un quadrato in splendida forma, con tantissima gamba, forse più di Ansaldi, quindi per me ha retto comunque botta. Zazza 5 e mezzo, ha fatto una partita molto molto generosa, da ex probabilmente ci teneva anche molto, pesa però sulla sua valutazione il gol mancato, quello che avrebbe portato la sua squadra sullo 0-2 nel primo tempo, è stato bravo Szczesny, ma lui poteva essere sicuramente più freddo. Belotti 6 e mezzo perché è un leone, c'è un lottatore nato alla fascia della capitano e poi ha rischiato di fare un gol clamoroso sempre nel primo tempo con una semi rovesciata incredibile. Peccato per lui perché poteva essere veramente uno dei gol dell'anno. Poi sono subentrati Segre e Bonazzoli che hanno avuto poche chance di farsi vedere, mentre Lukic per me merita un 5 perché è entrato, ha fatto qualche fallo, ha perso palloni e anche su una marcatura preventiva ha mancato la difesa, forse nel secondo gol di Bonucci, quindi per me è insufficienza, è entrato male. Quindi concludo con Giampaolo 5 e mezzo perché indubbiamente aveva preparato la partita molto bene. Torino ha retto per 77 minuti, però poi ha, secondo me, sbagliato nel togliere un attaccante inserendo poi Lukic, abbassando così molto molto il baricentro della sua squadra. Quindi l'ha portata a chiudersi ulteriormente e la Juventus ne ha approfittato ed è poi riuscita a ribaltare il risultato. Questi sono i risultati, sono i voti che ho assegnato io, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo o meno e niente, ci vediamo al prossimo appuntamento qui sul saluto di Gazi. Ciao ciao!